Più o meno tutti a rete, sta arrivandoci adesso Itzmihobe Non è a rete ma non ci andrà probabilmente Uriel OS che non parteciperà al lancio E di Galoppo Friol Crystal Stacco della macchina di Galoppo Imanvold all'esterno, molto veloce Islanda Che tende a scendere alla corda superando Itzmihobe e Insomniagriff Mossa che riesce all'imbocco della prima curva, 200 di strappo veemente, 13-3 Ma Islanda ha ottenuto quello che voleva, vero sia la testa Seconda c'è Insomniagriff, terzo Itzmihobe che trova la corda di precisione avanti a Fuente Park Via via tutti gli altri con Friol Crystal in seguimento Si completano la prima curva di conseguenza i primi 400 metri, 28-9 C'è stato strappo dopo i primi 200 ma poi Davide Nuti ha già ripreso in mano Islanda precede Insomniagriff, precede Itzmihobe Quarto Fuente Park, quinto Faruk Delcigno, sesto Uriel OS, settimo rimesso Imanvold 600 che diventano tattici, 45-1 ma 31-8 dopo lo strappo Segno che Davide Nuti sta riprendendo in mano e fa i suoi comodi Ha mosso dalle retrovie Imanvold che si trascina Uriel OS Seconda curva, si arriva a completare una metà gara parecchio tattica Metà gara in 1-1-6, 32-7 il secondo parziale Non succede nulla, Imanvold è arrivato di fianco a Insomniagriff Non ha spostato Itzmihobe, non ha spostato Fuente Park Tutte queste situazioni permettono a Islanda di completare un chilometro in 1-17 e mezzo 32-4 dal palo, sino metà e top posta, Davide Nuti si gira, non succede nulla Islanda precede in una lunghezza Insomniagriff coperta da Imanvold Quindi gli altri che non si muovono in bocco dell'ultima curva 400 dal palo, parziale in 39, 1-32-4 i tre quarti di miglio Islanda con Davide Nuti che continua a girarsi Insomniagriff è seconda sotto, Itzmihobe è terzo sotto Di fuori c'è Imanvold che ovviamente è abbastanza stanco anche perché viene da rottura Si va all'ingresso della retta d'arrivo con Islanda che è sempre sicura In avanti nei confronti di Insomniagriff e Itzmihobe Sta bene chi sta la corda, sta male chi è di fuori Islanda allunga non appena imboccata la retta d'arrivo Fa solo passare i vetri, viene a vincere al minimo dei giri Mentre Insomniagriff contiene Itzmihobe per la seconda piazza 29 gli ultimi 4, 2-1 e mezzo il tempo totale Non ha fatto nulla Islanda una volta presa la testa 1-15-9 la media, la vittoria veramente facile Islanda, Davide Nuti, Mauro Baroncini, colori di Urbano Campanelli La quota al totalizzatore di 1,39 Salve è Grazie.